Io sono Irene Cannone e ho realizzato un blog che si chiama intuitofemminile.it Intuito Femminile è presente anche con una pagina Facebook e su Youtube con un suo canale. Il mio è un esperimento conoscitivo, io realizzo dei video post proprio perché attraverso il mio linguaggio non verbale posso aggiungere tutto ciò che non si riesce a comprendere con le regole grammaticali. Io non mi metto mai nella condizione di ripetere due volte lo stesso video. La spontaneità permette di tirar fuori una serie di informazioni che difficilmente possono essere controllate nella velocità dalla parte razionale. La parte razionale si adegua all'informazione emotiva che si esplica attraverso il non verbale. Questo è il mio progetto di evoluzione personale. Entrare in feedback con altre persone aiuta me stessa a creare tutta una serie di condizioni per cui l'intuizione possa svilupparsi. Tutti coloro che si mettono in contatto con me attraverso i vari canali che sto utilizzando, il blog, il canale di Youtube e le pagine di Facebook, queste persone in qualche modo possono collegarsi ai miei discorsi, ai miei pensieri, ai miei ragionamenti. La necessità del confronto continuo che serve anche per creare dentro di sé una sorta di meccanismo di estrapolazione e di svolgimento delle informazioni. Quindi se anche tu sei interessato agli argomenti che propongo, puoi interagire con me lasciando dei commenti e magari iscrivendoti al canale di Youtube. Ciao! Ci vediamo nei miei posti! Ciao ciao! Ciao!